Benvenuti a un nuovo episodio di Cooking Around. Oggi prepariamo una salada di tuna e salata. Questa pasta è per circa 4 persone. 750 grammi di uccelli di uccelli o di uccelli bianchi e 250 grammi di tuna di uccelli. Finalmente, tagliate un'olio media rosa. Se sei nuovo sul canale, considera di asciugare per vedere nuove ricette ogni settimana e clicca la bellissima per rimanere sempre attualmente. Aggiungere il like se volete vedere nuove ricette ogni settimana. E lasciate un commento per lasciarmi sapere se potete provare questa salata di salata di salato alto alto. Finalmente, tagliate un po' di parsley. Nervi peper. Nervi peper. salto, un round di oliva di oliva extravirgine, paprica dolce, puoi usare il olivato per avere un olivato più forte che va perfettamente con il olivato di olivato salto, il cuocere di circa un po' di limone o un vinagre se preferisci. Puoi anche aggiungere cuocere, oliva di nero e tomate di solido in oliva per una vera esperienza mediterranea. Dicete un buon mix e puoi anche mantenere nel friggio per il prossimo giorno. Per complementare questa salata, ti raccomando questo bianco di sardegno di sardegno. Guardate e vediamo lì! Restate fai! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.